Musica Vincenzo Samuele Andrea Eugenio Aspetta, Eugenio primo piano Ehi, Raffaele Sorriso, sorriso, Giorgia, anche te Anche per voi No, ma cazzo è un video Guarda, sei brava Guarda, guarda che essere Ritira il direttore sportivo Del gruppo sportivo Potentia Il riposo dei guerrieri I guerrieri che si sbaffano Dolce a volontà E io mangio E lui manza Siamo qua con Simone Paradisi Esordiente primo anno dell'Alma Juventus Fano Ti guardi qua, Simone? Come è andata, come è andata, ci dica Non ti cazzate Mi metti in difficoltà No, come Bellino La pulata Un applauso per questi ragazzi Che si danno veramente da fare Società del vincitore ASD, capo di casa La squadra Siamo pronti per partire Apriamo con i traguardi volanti Primo applauso a Raffaele Radice Fuggitivo per i cori dell'Alma Juventus Fano Bel protagonista nella prima parte Della competizione Vai sul primo gradino Raffaele Leader all'altezza del sesto giro Traguardo volante Giacomo Pompini secondo Scuola in giallo Nero della Montagnola Porto Sant'Elpidio Brondo per Andrea Tom Massini dell'Alma Juventus Fano Per il 2 su 3 Della formazione bianco ad Agosta Montepremi sempre griffato Dalle calciature Grandinetti In memoria di Pino Grandinetti La pedale dice Leader Alma Juventus Fano Giacomo Pompini secondo Montagnola Porto Sant'Elpidio Andrea Tom Massini Ancora Alma Juventus Fano La pedale dice Della La pedale dice Quate 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 So No perché no non fa non fa ok no ma tu sta riprendendo non fa le cazzate lo scuriamo questo programma l'hai ripreso? no non sto fermo non l'ho visto? che scatasse è venuto ripresa ripresa riprendi la Giorgia com'è che Giorgia? stai riprendendo no? si basta dopo ti taglio no no su questo è il vecchio lo metti Giorgia girati che no ti riprendi vai 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 gasto 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 troppo 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 perché troppo 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 alontana ahahah fermi basta 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 ok ok non puoi non puoi non si può fare come sottolineare la notizia e chiudere scura la telecamera tieni dietro di me tan 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 la giorgia arriva la giorgia si nasconde dietro al canto il vecchio vi faccio eccola lì eccola lì eccola e dopo questo finisce là su boh non lo so finiscerà finiscerà ma quando lo mettiamo su giù eccola adesso che casca più un tuo maico dai maico si devi ahahah ma l'ultimo ma l'ultimo raff ahahah io ho una tappa anche a te e una coppa la diamo alla MIS e la terza luce la diamo a te allora con questo io vorrei dare un grosso applauso a tutto questo gruppo a voi tutti che avete partecipato, grazie speriamo l'anno prossimo di poter fare ancora meglio un uomo qual è? no! qui teleschianto Castelvecco sentiamo rumori strani dalla campagna di Cartoceto dove si produce un buon olio ma oggi vogliamo parlare non dell'olio ma del pranzo di fine stagione esordienti primo e secondo anno sentiamo rumori strani dietro quindi non facciamoci caso siamo qui con le donne esordienti primo anno che ci hanno dato esordienti no esordienti siete esordienti e basta taglia taglia ma prima che studi prima di fare questa intervista lo vuoi fare? non sei preparato? no 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 abbiamo qua un genitore che mi sta fuggendo questo va sul backstage bello 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 bello